Bene, siamo qui a Roma, istituto superiore di istruzione specializzata per sordi Magarotto, una scuola molto particolare. Qui davanti è la preside dell'istituto, Isabella Dottoressa Isabella Pinto. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Allora, dottoressa, dirigente, la sua, quella che dirige è una scuola molto particolare, una scuola frequentata da ragazzi non udenti, da ragazzi normodotati e soprattutto una scuola che ha più sedi in Italia. Ci può innanzitutto descrivere come è composta e quali sono le particolarità di questo istituto superiore? Allora, l'acronimo è complesso e a dirlo è anche poco gradevole perché l'acronimo è ISIS, però con doppia S finale, ed è l'istituto statale di istruzione specializzata per sordi. È l'unica scuola statale specializzata sulla sordità, specializzata e non speciale. Speciali erano le scuole che sono state eliminate dal sistema alla fine degli anni 70, ed erano scuole in cui si confinavano, si ghettizzavano i ragazzi con disabilità, le classi differenziali, cose terribili. È una scuola che ha un progetto didattico assolutamente strategico, straordinario, innovativo perché è un progetto che si fonda sull'inclusione di ragazzi sordi, ragazzi e ragazze, ragazzi e ragazzi udenti nell'ambito della stessa classe. Non abbiamo il docente di sostegno, prima caratteristica. Non abbiamo il docente di sostegno perché all'interno del Magarotto insegnano docenti specializzati sulla sordità o docenti di sostegno. Che cosa vuol dire questo? Che per arrivare ad insegnare al Magarotto bisogna avere l'abilitazione sulla classe di concorso supposto e la specializzazione sulla sordità o sul sostegno. È una scuola speciale nel senso che è unica perché ha tre sedi, una sede legale a Roma, in cui abbiamo tutti gli ordini di scuola. A Roma siamo un omnicomprensivo dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori. Non solo superiore, anche bambini. Infanzia, allora, abbiamo una dislocazione geografica abbastanza articolata. A Roma noi lavoriamo su due sedi sostanzialmente. C'è una sede a Via Nomentana. Siamo in locazione, per conto del comune, in dei locali che ci sono affittati dall'Istituto Statale Sor di Roma, che però è un istituto che si occupa di formazione e non c'entra con la scuola. Lì abbiamo in locazione il pian terreno, il primo piano e ci sono la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. La scuola media, come si diceva prima, la scuola superiore a Roma, sono a Vicolo del Casallo Ombroso, dove ci troviamo oggi, e abbiamo un convitto annesso. Il convitto però è destinato solo ai sordi, mentre invece le classi, fino adesso io le sto parlando, sono classi di studenti sordi e studenti udenti. Avete anche delle sedi a Padova? Poi abbiamo, questa configurazione è stata pensata nel 2000 e la scuola nasce a seguito di una convenzione perché con l'autonomia scolastica le scuole dovevano avere una certa consistenza numerica e le scuole specializzate in sé non raggiungevano la consistenza numerica delle 600 persone minimo, delle 600 persone. Allora si sono riunite le tre scuole con una convenzione che ha impegnato provveditori all'epoca, sindaci di Roma e provincia, Padova e provincia, Torino e provincia, perché erano lì che c'erano le altre due scuole specializzate, sempre chiamate scuole Magarotto, un po' come le scuole Montessori sostanzialmente. E quindi dal 2001, in virtù di questa convenzione, la scuola è unica, unico è il dirigente, che è a Roma, che sono io. Le sedi di Padova e di Torino sono gestite da due direttori di sede scelti da me, a cui io delego ampi poteri, ovviamente, che sono quasi dirigenziali, pur non avendo un ruolo istituzionale, però il discorso, devo dire, in tutto questo le tecnologie messe in risalto dal Covid ci hanno dato una grossissima mano. Noi ormai ci vediamo e facciamo riunioni quasi tutti i giorni. Su Meet ci incontriamo, facciamo riunioni e ci confrontiamo. È stato prezioso questo strumento nel momento in cui è in sorta l'epidemia del Covid, perché chiaramente lì si trattava di prendere in esame le varie note del Ministero della Salute e stabilire cosa fare il giorno dopo. Certo, Presidente, mi schermo un attimo, veramente un minuto. Ha detto quasi dirigenziali, cioè che i responsabili delle sedi hanno un ruolo fondamentale e hanno anche il potere di agire anche personale, immagino. Sì, allora però diciamo che loro sono giustamente consapevoli del fatto che, al di là del fatto di ricevere una delega piuttosto circostanziata in cui io scrivo ciò che delego e ciò che invece mi riservo come scelte, come decisioni. Loro però sono persone assolutamente affidabili e ogni volta che devono prendere una decisione che eccede in qualche modo l'ordinaria amministrazione dal provvedimento disciplinare nei confronti di un ragazzo, siamo sempre, assolutamente. Ripeto, adesso, io prima ero costretta ad andare, c'è un consiglio straordinario, viene, prendevo il treno ed andavo, a volte anche in giornata. Adesso risolviamo tutto. Certo, diciamo, il beneficio del Covid? Io lo dico sempre, il Covid ci ha insegnato a lavorare in modo diverso. Allora, come si lavora in classe al Magarotto? Allora, in classe al Magarotto si lavora, dunque, ogni docente, abbiamo detto, è specializzato. Purtroppo non è sempre così. Ci sono alcuni docenti specializzati, ma per un problema di ingresso in ruolo di nuovi docenti di corsi di formazione che rilasciano, di corsi che rilasciano il titolo di specializzazione monovalente, i docenti specializzati piano piano stanno andando in pensione e allora noi dobbiamo attingere dalle graduatorie. Arrivano spesso docenti anche non specializzati. Le dico cosa viene prima di entrare in classe. Il docente non specializzato viene accolto dal team di docenti specializzati e gli viene intanto fatto una prima formazione. I primi giorni di scuola vengono impiegati da tutti noi proprio per far capire che cosa deve succedere varcata la soglia della scuola, della classe. Questo processo dura tutto l'anno evidentemente. All'inizio però gli si danno proprio i fondamentali. Il docente specializzato e il docente non specializzato sono affiancati da assistenti alla comunicazione, che sono figure strategiche nell'istruzione per i sordi. Non sono interpreti. L'interprete traduce piedisseguamente ciò che avviene. Una nostra conversazione viene tradotta in segni. L'assistente alla comunicazione è un facilitatore di contenuti. Noi negli anni siamo riusciti, a Roma soprattutto, a creare una squadra di assistenti alla comunicazione che è specializzata per materia e per settore. Quindi io ho l'assistente alla comunicazione specializzato in matematica e quindi segue i docenti di matematica. Il docente è l'assistente alla comunicazione che è specializzato nel settore elettrici. Perché chiaramente è stato creato del materiale e questo materiale è condiviso tra docente e assistente. So che all'inizio anno anche per le loro nomine ci sono un po' di problemi, non sono gestiti dallo Stato. No, dunque qui il finanziamento ci passa dalla Regione. Noi siamo un vantaggio per lo Stato, io lo dico sempre, perché noi non abbiamo il docente di sostegno e a fronte di due, tre, quattro ragazzi sordi presenti in una classe abbiamo un assistente alla comunicazione laddove questi ragazzi distribuiti sulle scuole altre, le scuole normali, avrebbero diritto ad un docente di sostegno dedicato e un assistente alla comunicazione dedicato. I finanziamenti vengono dalla Regione in base a delle richieste che fanno i genitori al momento dell'iscrizione. Qual è il problema? Che spesso genitori sordi che scrivono i figli a scuola, noi li aiutiamo a fare le domande perché vengono prodotte normalmente in cartaceo, ma non hanno la consapevolezza dei documenti che ci vogliono, perché devono avere ovviamente una 104, articolo 3,3, devono produrre un audiogramma, devono darci una serie di documenti. Questi documenti vengono elaborati in un progetto che viene trasmesso alla Regione, a Roma, questo parlo a Roma perché nelle altre Regioni è un po' diverso, nel mese di giugno. A settembre ci viene comunicato il budget, che è chiaramente un budget importante. Noi facciamo una gara, una procedura di evidenza pubblica e troviamo la cooperativa, perché questi servizi vengono forniti dalle cooperative, diciamo che sono tre anni che la prima settimana di scuola abbiamo gli assistenti in classe. Fino a tre anni fa, questo è un lavoro enorme però. È un lavoro enorme che insomma dà merito anche alla vostra azione e al vostro operato. Preside, torniamo agli studenti. La particolarità di questa scuola è che i ragazzi sordi si integrano normalmente con ragazzi udenti e normodotati in classe. Come avviene questa integrazione di fatto? Allora io direi che è il contrario. Cioè qui la filosofia della scuola è che è il ragazzo udente che deve entrare nel mondo delle persone sorde. Ed è, devo dire, un processo naturale e fisiologico quanto più sono più piccoli i ragazzi. Nella scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola media, è chiaro che è una fascia d'età in cui è più semplice imparare una lingua e le persone sono meno strutturate, ci sono meno pregiudizi. E quindi io quando vado a Via Noventana, ma anche quando vado qui alle Medie e c'è una buona acquisizione di competenze in LIS da parte degli studenti e degli alunni udenti, io non vedo differenze. Perché interagiscono segnando bambini che poi alla fine scopro, cioè non distinguo chi sia il sordo da chi sia l'udente. Questa è bellissima come cosa. È chiaro che nell'adolescenza e quindi alle scuole superiori questo processo è più difficile perché i ragazzi arrivano ad essere più strutturati. E qui c'è il ruolo degli insegnanti. Noi attribuiamo il voto di comportamento ai ragazzi anche in base al loro livello di inclusività, al quanto sono disposti ad accogliere l'altro. C'è il ragazzo udente, quanto è disposto ad accogliere e aiutare anche. Esatto, noi stigmatizziamo comportamenti. Io devo dire che questa non è una scuola in cui ci siano rilevanti problemi disciplinari, però interveniamo in modo molto fermo e deciso laddove i ragazzi hanno atteggiamenti poco inclusivi, perché è proprio antitetico rispetto al nostro... L'ultima domanda. Abbiamo parlato degli assistenti, dei ragazzi, parliamo degli insegnanti. Cosa deve fare un insegnante per venire a insegnare in una scuola speciale come il Matarotto? Allora, deve, oltre che avere l'abilitazione, avere il titolo di specializzazione monovalente, che è un titolo che può rilasciare anche lo stesso Matarotto, che però da quando esistono i TFA per il sostegno ci siamo fermati. L'ultimo corso si è stato realizzato dalla scuola dieci anni fa. Adesso stiamo lavorando perché bisogna trovare un'università, io l'avrei anche trovata, con cui avviare un corso sperimentale, ovviamente non più di durata biennale come era prima, perché ormai anche corsi di sostegno si ottene il titolo in un anno di frequenza. E quindi bisogna avere questo titolo. Se non si ha il titolo di specializzazione monovalente, può essere fatto valere anche il titolo di sostegno, quello normale. E questo comporta l'insegnamento nella classe del Matarotto, nella propria disciplina, senza il supporto di insegnanti di sostegno. Assolutamente, questo deve essere chiaro. Non abbiamo il docente di sostegno. A fronte di questa mancanza va però detto che i numeri, la consistenza numerica delle classi è ovviamente ridotta. Noi arriviamo ad avere, anzi quest'anno abbiamo fatto un boom di iscrizioni, per il prossimo anno avremo classi con minimo 15 iscrizioni. Prima arrivavamo a 10, ma siccome ho avuto tante richieste da sordi e duenti, chiaramente la classe deve avere un equilibrio. Ci dobbiamo essere in ogni classe 2-3 sordi, 4 al massimo, perché la mancanza del docente di sostegno, sennò si fa sentire troppo. Ovviamente, questo lo dico a scanso proprio di dubbi e di equivoci, noi tendiamo a non accettare iscrizioni di ragazzi che abbiano altre disabilità che non siano la sordità, perché non avendo il docente di sostegno non facciamo alcun buon servizio per questi ragazzi. Comunque il docente deve preparare una didattica sicuramente adattata a tante realtà diverse. Qui, allora, il numero esiguo consente la famosa individualizzazione e personalizzazione dei percorsi. Ci si arriva perché poi noi abbiamo in queste classi da 12-15, abbiamo 2-3 sordi, poi abbiamo i DSA. Ormai tantissimi ragazzi hanno PDP per problematiche legate al DSA, ad essere DSA, oppure sono BES per svantaggio socio-economico-culturale. Abbiamo tanta immigrazione come quartiere, per cui dobbiamo tenere conto anche di questo. Un'ultimissima richiesta. Il diploma di maturità è un diploma come fosse riconosciuto, come se fosse, diciamo, conseguito in un'altra scuola. In una scuola normale, certo. Ci sono ragazzi che vanno anche all'università? Certamente, certo. Ci sono ragazzi che vanno all'università sordi e udenti. E noi, ad esempio, a Roma abbiamo una collaborazione molto attiva con la Facoltà di Roma 3, con il Dipartimento di Scienze della Formazione, perché, chiaramente, loro hanno proprio tutto un servizio dedicato alla sordità, sia per quanto riguarda la consulenza che possono offrire ai ragazzi sordi al momento dell'iscrizione, sia l'attivazione di interpretariato in aula e di assistenti alla comunicazione. Si sono confrontati con noi e abbiamo fatto capire loro che era importante avere anche in aula universitaria un assistente alla comunicazione, perché, ripeto, una cosa importante, il sordo accede agli stessi contenuti dell'udente, non c'è un impoverimento di contenuti. La lezione di matematica o di storia è la stessa, è il percorso che è diverso e l'assistente alla comunicazione facilita l'apprendimento del contenuto. Bene, dottoressa Pinto, la ringraziamo. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi.